E cari amici, cari amiche, eccoci qua, ci troviamo al The Grill Pub in compagnia del nostro Fabio che sta preparando un panino, ma non parliamo di panini classici, perché qui al The Grill Pub veramente i panini fanno la differenza, quante volte vi è capitato di avere una fame esagerata vi sareste mangiate il frigorifero, è tarda notte, ma non sapete dove andare, non volete accontentarvi delle briciole, allora questo è il posto giusto per voi tutto rigorosamente casareccio, non c'è nulla di sul gelato e là anche le patate sono rigorosamente fatte in casa, per cui approfittatene perché io già soltanto a parlarne comincio ad avere un certo lagurino so che Fabio è pronto per il suo panino, che mi ha promesso un panino da chilo personalizzato eccolo che arriva, ammazza, lo vedo già arrivare è pronto Anto ecco qua, avete visto il panino, giusto per darvi un'idea per cui cosa aspettate immagino abbiate anche voi già l'accolina in bocca e noi vi aspettiamo per degustare questo panino straordinario che troverete solo qui con Fabio al The Grill Pub a Soberato, vi aspettiamo